Esiste un modo di far bene questo genere molto italiano, che è un pop per una dimensione appunto molto televisiva, radiofonica, che parla di queste emozioni così universali e allo stesso tempo con un fare non dico adolescenziale ma post-adolescenza. E questo brano secondo me è adatto, questo è un brano interessante, già dal titolo Il Natale e l'estate, prende appunto due figure, due immagini che hanno in comune diciamo il fattore vacanza per il luogo comune, quindi comunque lo stare insieme ti riporta in un concetto di famiglia, il Natale e l'estate come il ritorno, quindi le famose ferie, quindi di conseguenza ti va già a raccontare qualcosa dal titolo, a me mi è interessato molto, cioè io dicevo cavolo la voglio sentire questa canzone quando ho letto il titolo, perché comunque già questo titolo parla, poi se andiamo a sentirla c'è da dire che è fatta veramente bene, non è la classica canzonetta, cioè ce ne sono in tanti che provano a fare la canzonetta e io poi magari sono lì e dico questa è una canzone di merda e lo dico, lo dico chiaramente e apertamente, questa non è una canzone, non è un tentativo di fare una canzonetta di merda, questa è un'espressione reale di sé, di Leonardo, questo ragazzo di amici, che ha portato un bel mood pop, certo, confinato al suo genere che poi non ha confini perché è aperto a tutti, però a fatti concreti è una canzone ben fatta, è una hit, non si può di niente a sto brano, veramente sono molto preso bene nell'averlo ascoltato, anche il testo non è banale, lui poi sa cantare bene, ma tutti quanti quest'anno d'amici sanno cantare bene al loro modo, poi c'è quello meno banale, quello più sperimentale, lui è proprio il classico cantante italiano, se vogliamo, cioè questo brano è proprio il pop, però lo fa bene e si sente che è sentita, è sentita sta canzone, non è banale a livello di testo, non è banale nell'interpretazione, funziona, secondo me, lui è uno di quelli che può fare strada in questo settore, se azzecca i brani, perché ovviamente poi quando esci da lì, c'è un brano come questo, spinto ad amici, può andare anche forte e non sta andando poi così tanto bene, visti i numeri, tra l'altro, perché? Perché appunto c'è della qualità, il pubblico alla qualità non piace, è troppo sofisticato per arrivare al grande pubblico, diciamo, però ecco, fuori da un format come amici, sto brano farebbe molta molta fatica, eppure merita, merita molto, sicuramente molto più di tanti altri.